sindrome sindrome del cuore infranto cari amici sindrome del cuore infranto by vanity fair un pregiato settimanale patinato vanity fair sindrome del cuore infranto c'è un articolo che ovviamente io ho letto online un pregiato articolo intitolato sindrome del cuore infranto come uscirne come guarire io questo pregiato articolo ve lo metto come linea riassunto di questo video c'è un pregiato psicologo psiconalista che talla che talla solo che non si va da nessuna parte se non si conoscono le opere di serafino massoni in primis la stipa del serpente non si va da nessuna parte pregiato psicologo pregiato psiconalista che si è stato intervistato da vanity fair e tu vanity fair svegliati non si va da nessuna parte senza serafino massoni la sindrome del cuore infranto ma ci sono già le mie opere ci sono già le mie opere from matriarchi tu patriarchi in lingua inglese from matriarchi tu patriarchi in lingua inglese from matriarchi in lingua inglese in tutto il mondo sulla grande piattaforma mondiale della mela la apple from matriarchi tu patriarchi capito capito ecco qua la sindrome del cuore infranto il cuore spezzato l'amore 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 ma bisogna dire che cos'è l'amore bisogna dire che cos'è l'amore una passione patriarcale inventata nel laboratorio patriarcale e basta insegnarlo già a partire dall'asilo dall'asilo quella che si chiama scuola dell'infanzia poi all'elementari si deve spiegare bambini e bambine attenti attenti quando sarete grandicelli quando sarete grandicelli vi innamorerete vi innamorerete di qualcuno di qualcuna però sappiate che l'amore l'amore è una truffa è un inganno è una suggestione un'invenzione sì ma adesso le cose qua ve le dico così si dice in parole poveri ve le dico in parole poveri vedete from matriarchi tu patriarcati invece qua le cose sono state dette con parole ricche non con parole povere capito from matriarchi tu patriarchi cari amici from matriarchi tu patriarchi già dalla scuola materna ovvero scuola dell'infanzia si deve cominciare a insegnare ai bambini che l'amore è una truffa si è una truffa capito è solo che è solo che questa è una verità che non piace a vani di fea non piace agli psicologi agli psicanalisti non piace perché non vogliono dare loro alla radice delle cose e la radice delle cose è è il matriarchato noi siamo in patriarcato e la radice del patriarcato è il matriarchato beh non è che la radice la radice è la scoperta dalla funzione dello sperma e si torna sempre di allo sperma si torna quando non si conosceva la funzione dello sperma si stava tutti tanto bene era il matriarchato poi quando abbiamo appreso qual è la funzione dello sperma abbiamo cominciato a star male siamo passati dal matriarchato al patriarcato siamo in patriarcato ma vanno dette queste cose va spiegato che l'umanità è passata dal matriarchato al patriarcato a seguito della scoperta della funzione dello sperma ma nessuno ci tiene nessuno ci tiene andare alla radice delle cose perché sennò finisce tutta l'imparcatura psicologi psicanalisti sacerdoti medici non ci hanno più da lavorare capito perché il patriarcato tiene in vita tutto questo baraccone lo tiene in vita se ci sono le sofferenze al patriarcato non non gliene frega niente non gliene frega capito va bene cari amici comunque leggetevi l'articolo la sindrome del cuore infranto poteva venire chiamato pure la sindrome di verter come il cuore infranto i dolori del povere verter la sindrome di verter vabbè leggete e fate le vostre personali considerazioni poi fatemi sapere come la pensate io vado sempre alla radice delle cose capito e per questo che c'è il mio pamphlet pamphlet un pamphlet from matriarchi to patriarchy lingua inglese in tutto il mondo beh per chi non conosce l'inglese c'è anche lingua italiana che sia chiaro è sulla grande piattaforma online della apple 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 a cura del centro leonardo di genova editore ugo falace editore ugo falace from matriarchi to patriarchy ok cari amici ok la sindrome